E salve a tutti ragazzi da Pierre Dark Knight 91, ci ritroviamo in WWE, oggi match contro Titus O'Neil sperando di ritornare alla vittoria, tuffiamoci subito nel match Eccoci qui, vediamo se Pierre fa qualcosa di decente, mamma mia com'è grosso Titus Allora, siamo partiti bene, lo stiamo già massacrando, ma attenzione perché non serve a nulla partire bene E poi al primo schienamento, andiamo male Allora, Titus è già a terra E ragazzi, mi scuso perché nell'ultimo match, nell'ultimo video, ho detto schieramento Ero convinto che si dicesse schieramento Sono davvero ignorante sul wrestling, davvero ho perso qualsiasi concetto e base su questo sport Allora, siamo partiti Dai, bene Allora, vediamo cosa si può fare Con calma, sempre Titus sta andando maluccio Prendilo Prendilo Ok E' ancora a terra Vai Ok Dai, proviamo a portare a casa una vittoria Adesso ci contrattacca No, lo sapevo Lo sapevo Annaggia, Titus Caro Titus No Ancora un cazzotto Questo, quando da cazzotti fa male, sono sicuro Ok, siamo riusciti ad uscire Titus Lo prendiamo No Eccolo qui, Pierre deve ritornare alla vittoria Ci deve riuscire, forza Pierre Forza, forza, se non cali pure nella classifica della NXT Ok, lo riesce a contrattaccare Lo prende Lo sbatte, bene così Sto notando, ragazzi, che adesso Il nostro wrestler aveva sull'immaginetta lo sfondo rosso Può essere che è quello il momento in cui noi non dobbiamo essere schienati Spero sia così Davvero mi trovo in disagio dire schienati Schieramento Schienamento Davvero Sempre detto schieramento Scusate l'ignoranza Scusate davvero l'ignoranza Allora Gli abbiamo fatto perdere un ginocchio Dai, 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 veloce Lo alziamo Lo sbattiamo Ok, bene così Con calma Con calma Non serve a nulla schienare adesso Mamma mia Non mi trovo a dire schienare Tensione Riesce a uscire E poi uno E poi due E poi lo alza La Pierluigi Bomb E' andata Mossa finale caricata Mi avete detto di farle Una dietro l'altra Speriamo non va vuoto La pre No Ci ha contrattaccato Titus Oh No No, no, ti prego Titus Non lo fare Non lo fare Maledetto Neil Che adesso ci Stacca due vertebre Ok Fine No Prova a chiudere Uno Per il momento La barra va veloce Speriamo di non Subire altri attacchi Per Ok Raschio time Bene Colpiamogli Gli gingilli A Titus Gli gingilli I gingilli Ok Sembra Abbastanza morto Neil Però Non mi fido Schienamento Maledetto Ecco lo sta scritto Schienamento Sono un ciuccio Maledetto Sono un ciuccio Maledetto Allora Titus mio Adesso ti piglio E tu mi contrattacchi E lo sapevo Maledetto Primavera Prendilo Bene così Dai si vola Titus Dai Pierre ce la deve fare Questa volta Proviamo a schienare Eccolo qui Vai Uno Due Niente Titus Riesce Prendilo Prendilo Bella botta Bellissima botta Un'altra botta Giù a terra Mamma mia Mamma mia Spietato Pierre Spietato Oggi Pierre Continua A ammazzare Il suo avversario Dai un po' di carica Un po' di carica Pierre è pronto Pierre è pronto Allora Facciamoli prendere Un po' di energia Poi andiamo vicino Non andare a vuoto Non andare a vuoto Dai Prendilo Ok Dai Dai Sotto la scella Senti l'odore Ok Bene 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 Titus non ce la fa più Prendiamolo No Quando lo prendi così Sempre ci contraattacca Uh Bene Bene Chiudiamo Dai Chiudiamo Uno Due E Mannaggia Mannaggia Prendilo a calci Prendilo a calci Bene così Staccaci da calci Capoccia Staccaci la Capoccia E stanco E stanco E stanco Pierre Vuoto Oh 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 No 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 Amico mio ti prego Ti prego Questa la perdiamo Vuoi vedere che la perdiamo? Mamma che botte Quando ci ha levato Attenzione Schienamento Ecco Due Vaffanculo Uh Non si dicono queste cose Perché perdiamo sempre Non riesco più a vincere L'esperienza è proprio poca Prendiamo poca esperienza Perdiamo contro Titus Ma ci sarà un prossimo match ragazzi Prossimo match Evento Superstar Contro Simon Goch Spero davvero Partirà così il match Partirà così il match La rivalità è alta ragazzi Allora Pierre subito Vai Vai Eh Vuoto Madonna quando li odio Quando vanno a vuoto Sti stronzi Dai Ecco Mamma mia Partiamo proprio bene Simon Goch Cerchiamo di essere Più tattici possibile Perché davvero Così non va bene Alzati Pierre E che cacchio Ma hai incominciato L'incontro Già a terra che non ce la fai più Maledetto Maledetto a me Che devo giocare con la massima difficoltà Prova a chiudere Vabbè se vince adesso Me ne vado Cancello il gioco E dico ragazzi Non lo porto più Perché sto proprio inguaiato Allora Eccolo a vuoto Vai Oh Finalmente Uno Due Tre Oh Ok Cerchiamo di essere Più tattici possibile Visto che mi avete detto Fai più mosse concatenate Cerca di essere più tattico per Stai un po' più alla larga Cerca di subire Meno Dagli attacchi dell'avversario Ok Niente Oh Ci ho contraattaccato Maledetto Disgrazia dove ne è Attenzione Attenzione ragazzi Porca puttina No Mamma mia L'osso secro Eh Già la mossa finale caricata Dai ma che cacchio Ma niente ragazzi Niente Ho aspettato fino all'ultimo secondo E prova pure a chiudere Attenzione Eh c'è Peggy che ci salva Bene Si alza Piede Sì siamo quasi finiti Dai Pierre Veloce Bene così Adesso Non gli dobbiamo dare scampo Dai Sto baffetto Anni 60 Dai Ok così Concentrazione ragazzi Oh no a vuoto No a vuoto Bene Lo riprendiamo Prendi un po' di energia Come cacchio faccio a stare già con quella poca energia Sempre a vuoto va Mannaggia Oh Cioè è finita l'energia senza far nulla Che cacchio Prendiamolo Dobbiamo cercare di essere davvero molto tattici Adesso riprendiamo energia Ogni volta che si rialza lo cerchiamo di buttare a terra Dai Bene così Mo riprendiamo energia Dai Alzati Pierre che ce la fai Simon Goch Mossa finale caricata Non serve a un cacchio Oh no Oh Eh 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 vabbè Va bene Va bene Così è il fatto Dai Di nuovo con questa mossa Hai già lo schienamento Dai Dai stiamo pareggiando eh Proviamo a schierare dai A schienare no a schierare Maledetta a me Uno due Niente Mannaggia Ah l'energia sta salendo Questa è già una cosa buona Dai Pierre No Mamma Cioè non è possibile ogni volta Andare a vuoto Su alcune mosse Comunque siamo riusciti a uscire dalla mossa Di Simon Goch Ok preso No la mossa finale Aspettiamo No Mannaggia Contraattacca sempre Oh Vabbè Gli ho sfiorato l'orecchio E' caduto giù Prendiamo energia Prendiamo energie Sali 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 Botta Bottona Bene così Vai Simon Vola Vola Simon Vola Vola Simon Goch Ok Adesso sono io che salgo Sono io che salgo Si vola Ok Stiamo cambiando le sorti del match Vai con lo schiena Oh Fai lo schiena a me Ok Sì Domani mattina Due Niente Mannaggia Mannaggia Si sta rialzando Simon Mentre Pierre Sta facendo i cacchi suoi E dai E dai Attenzione Ecco Ecco Se perdo pure questa Poi fate bene Fate bene nei commenti a dire Stai inguaiato Uno Due Uh Gesù sia lodato Gesù sia lodato Alzati Alzati Dai Ok Botta assurda in faccia Simon Devo cercare Come avete detto Di fargli Diciamo Più parti del corpo Rosse E noi ci proviamo Vai con questo volo Ok Si replay Non c'è frega niente Sembra che Esausto Siamo a due Tre Abbiamo vinto Miracolo Ragazzi Abbiamo vinto Miracolo Bene così Finalmente Pierre Può festeggiare Dopo questo incontro Superstar Contro Il nostro Contro Il nostro Simon Perché il nostro Contro Simon Gocci Non è il nostro Anche perché Non voglio vedere Quei baffi Quindi ragazzi Per il momento Teniamo la prima posizione Nella NXT Dobbiamo ancora Cercare di vincere Il titolo Ma non sarà semplice Contro Kevin Owens I punti esperienza Nonostante Vinci Sono pochissimi Ne abbiamo Solo 148 Il prossimo match Sarà di nuovo Contro Simon Gocci Per L'evento NXT Arrival Speriamo Di riuscire A continuare A vincere Nel frattempo Like Condividete Commentate Un bacione A tutti Da PierreDarkNight91 A presto 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 Grazie a tutti.